Ciao ragazzi, oggi video speciale dedicato ad uno dei portieri più forti di sempre Un grandissimo, forse il migliore, in molti pensano Un portiere, un uomo, un idolo La lettura che hai sul momento che ti fa fare una determinata parata Una determinata uscita La base e il muro ha delle caratteristiche che sicuramente vanno ad essere ottime per quel che riguarda un portiere Miai! 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 Grazie a tutti.